buonasera a tutti da fabio sinatti e davide faltoni ecco andiamo a commentare un l'evento che ha sicuramente riscosso grande successo nella città di arezzo la parco corsa ma soprattutto con l'intento di visitare e vedere le bellezze che il parco del pionta offriva e credo che ci siamo riusciti perché siamo riusciti a portare un fiume di persone e quindi molti aretini ma anche molti non aretini in un ambiente bellissimo si vedeva ora le immagini dall'alto oltre che molto grande è veramente oltre che essere un sito archeologico c'è veramente tanto spazio per poterlo vivere e vivere veramente il rapporto con la natura in un ambiente interno della città ecco anche poi tutti gli aspetti collaterali hanno sicuramente influito in senso positivo alla diciamo alla riuscita di questo di questa manifestazione quindi abbiamo visto il ballo della fitness di alberoro abbiamo visto i diabetici e abbiamo visto diciamo un po tutto il contorno che diciamo assaporava dava il sapore della festa quindi delle nuove di pasquetta ma all'insegna proprio dello stare insieme di divertirsi in una giornata fantastica anche dal punto di vista meteo certo la ringraziamo l'amministrazione perché ha creduto nel recupero di questo ambiente e quindi quando ci ha chiesto a noi del mondo dell'atletica di dare una mano a questo risultato abbiamo accolto subito l'invito e credo che tutti insieme siamo riusciti veramente a fare qualcosa di inimmaginabile perché nessuno solo sarebbe potuto immaginare un interesse di queste dimensioni e bisogna anche tener conto che è il giorno di pasquetta che la gente molto spesso proprio questi giorni va via e invece insomma poi dillo te il flusso il numero dei atleti non è da una gara qualunque insomma certo e fra l'altro sapevamo già la partenza che avevamo delle difficoltà dovute proprio alla che immagini correre accanto però queste immagini sono fantastiche io direi che si vede il bello e la bellezza di correre in questo parco questa fiumata di gente con queste varianti anche addirittura molto caratteristiche diciamo le scalette lì vicino al bar ma soprattutto ecco il visionare proprio il parco è chiaro che è stata difficoltosa la nostra diciamo anche organizzazione proprio perché dovevamo far vedere questo parco quindi molti probabilmente non hanno capito qual era lo spirito anche della manifestazione oltre che l'aspetto agonistico era anche quello di far vedere poi forse c'è stata una sorpresa in positivo forse non c'era non ci si aspettava tutta la gente ecco perché magari con molta meno gente sarebbero stati meno problemi logistici però meglio così e quindi magari chiediamo a tutti anche di avere un po di comprensione ma puoi capire che lunedì pasquetta quindi anche anche diciamo i volontari molto spesso non è che li troviamo così dietro l'angolo facilmente quindi è chiaro che diventava un pochino più complicato però ecco diciamo che la bellezza del parco la bellezza delle zone ecco qui proprio sono proprio dei punti specifici in alcune zone del parco che hanno dato vivacità bellezza insomma noi abbiamo intervistato anche alla fine un po di concorrenti che hanno apprezzato la scelta di questo giro interno era proprio anche per far capire che lì c'è un circuito in cui successivamente chiunque ci può andare allenarsi insomma ma l'altro il progetto è quello poi di ripetere diciamo questo percorso interno per fare l'allenamento di gruppo che inizieranno a maggio insomma quindi voglio dire quindi non è una cosa fatta a caso è chiaro che la partecipazione così massiccia e soprattutto la rapidità di corsa che molti agonisti hanno voluto diciamo imporre alla manifestazione hanno creato qualche piccola difficoltà però direi c'è un altro aspetto che secondo me ha condizionato un po il fatto che questa manifestazione ha avuto un grande risalto mediatico anche preventivo e quindi c'è stato molta attenzione forse questo ha spinto anche gli atleti a impegnarsi parecchio e a sperare nel risultato proprio perché aveva assunto un rilievo notevole ecco guarda queste queste immagini da lato per me sono favolose ma chi lo direbbe che siamo nel centro della città in mezzo all'olivi siamo vicino alla stazione ferroviaria e siamo vicino all'ospedale ma vedete anche qui queste caratteristiche di questo verde fantastico e di questi viottoli diciamo queste ecco queste vie che sono interne che ovviamente non ci transita nessun mezzo motorizzato eccetto in quella giornata lì qualche cosa ma insomma i bambini per andare a giocare io ecco veramente chi abita in quelle zone che come fanno a non apprezzare non cominciare ad andare a viverlo perché è fondamentale bellissimo io queste immagini alcune le ho viste prima con la diretta che Arezzo tv ha fatto e che ringrazio perché ha fatto un lavoro direi eccezionale perché una mattinata intera a seguire la corsa ma non soltanto anche gli aspetti ma è diciamo l'inizio di una ripresa di possesso degli aretini del parco del pionta parco bellissimo ma che è sempre stato un po' disatteso per paura per timore perché mal frequentato beh oggi si è cominciato con questa bella corsa più di 400 iscritti visto una pettorina 400 e spassa quindi è avuto un grande successo ora avere successo al pionta con iniziative come queste di primavera estate oltretutto con giornate come queste è facilissimo il vero tema sarà a ottobre perché da qui a ottobre sicuramente riusciremo a vita viva vedo che è molto gradita e da ottobre in poi ci dovremo far venire in mente qualcosa perché non deve assolutamente ricalare l'attenzione io penso però che se gli aretini cominciano a frequentarlo e li invito non soltanto quelli che corrono quelli che ballano lo zumba quelli che portano al giro i cani ma anche soltanto per far due passi e leggere il giornale la domenica mattina è un posto fantastico quindi secondo me si fa bene a pubblicizzarlo e a richiamare persone non soltanto gli sportivi anche soltanto i cittadini che vengono qui per passare un'ora due ore in un ambiente bellissimo nel centro della città ecco che intanto ritorniamo a visionare questa parte dall'alto quindi nella zona sotto del campo da calcetto ma questo verde fantastico la città la vediamo tutta vediamo dal suo il duomo dove poi concorrenti sarebbero diciamo avrebbero raggiunto la parte più faticosa del tracciato che quindi attraverso questi parchi siamo riusciti veramente a fare un po' il giro della città di Arezzo sì no è un altro elemento da rilevare con un grande interesse era il fatto che lungo il percorso visto che era stato proprio chiuso il percorso con la presenza dei vigili era affluito tutto il pubblico e il pubblico era coinvolto perché incitava e incoraggiava i partecipanti cosa che io non avevo mai visto ad Arezzo e sembrava veramente di essere in una manifestazione di una grande città del nord e non Arezzo qui vediamo intanto i vari protagonisti della competizione che ovviamente hanno preso subito il largo quelli che poi saranno diciamo i vincitori alla fine della competizione ma tutta la schiera dei partecipanti ha dato vivacità e movimento alla gara io devo dire che questa qui è stata una corsa che per molti versi sapevamo dagli anni precedenti è sempre molto apprezzata chiaro quest'anno ancora di più proprio con questa formula che è stata realizzata all'interno del parco del pionta che ha dato un pochino più di vivacità anche alla corsa stessa e forse anche interesse qui vediamo anche nel settore femminile le due avversarie fra la Belardinelli e la Nano che pensavamo all'inizio che la Nano avesse qualche spanna in più nei confronti dei Belardinelli invece ci abbiamo ci abbiamo dovuto ricredere insomma ecco ci siamo dovuti ricredere perché effettivamente la Belardinelli su questi percorsi molto vari è fortissima qui intanto vediamo anche la Barneschi che era fra le papabili protagonisti ma tutta la schiera degli appassionati amatori perché oltre diciamo 320 arrivati alcuni ritiri importanti come Malvin Metiusci e poi anche Verini Pietro che hanno un pochino diciamo risentito della Pasqua mettiamola diciamo così ecco anche perché probabilmente essendo degli agonisti se non sono fra i primi diventa un pochino più difficile poter diciamo anche e questo secondo me ha influito anche l'aspettativa mediatica perché sapere che la gara va in diretta e sapere che sei ripreso all'arrivo e se non arrivi tra i primissimi e tra i primi vabbè insomma vabbè però comunque ecco bello io direi che è stata al di là diciamo di qualche piccola problematica che c'è stato direi che per il resto va tutto abbastanza bene insomma ma molto 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 bene il livello anche dei partecipanti era notevole sia in campo maschile che in campo femminile il percorso è veramente interessante perché tutta la parte anche impegnativo perché c'è tutta la parte c'è tutta la parte d'accesso su al prato che è molto impegnativo perché c'è una bella salita insomma quelli sono tratti che mettono un po ad una prova e gli atleti quindi è vero che sono quasi tutti preparati ora sono diventati tutti diciamo oramai collaudati sotto questo aspetto qui sicuramente è stato fatto un passo molto avanti mentre prima c'erano delle improvvisazioni che in cui si vedevano atleti giungere al traguardo un pochino anche diciamo affannosi oppure diciamo stanchi in maniera esagerata oggi li vediamo ognuno riesce a dosare bene le proprie forze per poter anche ottenere il risultato finale sì certo c'è si vede chiaramente cioè la la distanza determina un po anche le qualità quindi all'inizio ci sono i più preparati si vede anche come corrono insomma si vede la differenza tra i primi che come corrono la il portamento la postura dei primi e quelli nelle nelle retroguardie ma questo è bello anche di questo sport che poi alla fine e dosando la velocità dosando l'impegno si riesce a poterlo fare in qualunque condizione e certo se siamo preparati è meglio auspicabile per tutti anche più difficile farsi male però ecco il ripeto veramente un bello spettacolo credo che il fatto stesso che la presenza dei vigili con le strade chiuse abbia fatto capire agli aretini quant'era importante questa manifestazione perché a volte Fabio ci siamo trovati qualche manifestazione senza servizio di sicurezza e la gente vede queste persone che non capisce invece io credo dispiace qualche volta ecco c'è stato un evidente da parte di una componente diciamo della polizia municipale che ha trovato qualche soggetto che a volte capitano purtroppo in questi in queste corse in queste manifestazioni che hanno hanno un pochino diciamo quasi disprezzato la manifestazione perché hanno dovuto attendere tre minuti o cinque minuti in bianconetana insomma stranamente però ecco per il resto c'è stato come hai detto te grande partecipazione sia di pubblico ma anche rispetto da parte delle diciamo dei mezzi motorizzati che molto spesso hanno le ripaschiette dove potevano anche andare insomma voglio dire no ma poi è una cultura che bisogna ritorni nel capo della gente che la città non è fatta solo per le macchine ci sono anche pedoni ora noi corriamo tra l'altro questo che era un transito quindi da un posto a un altro da un parco all'altro quindi non è che abbiamo dato grandi difficoltà qui siamo nel parco dulci qui stiamo andando verso la zona diciamo della su del prato ma insomma ecco voglio dire no ma capito secondo me anche proprio noi con la nostra attività si fa capire voglio dire che comunque è fondamentale capire che le strade si sono per le auto ma sono anche per cioè una volta tanto si può correre qui senza avere il pericolo o l'attenzione no no ma anche lì in quel punto avevano proprio chiuso la strada e ci sono 10 minuti la gente aspetta io ho visto comunque la gente aspettava scendeva dall'auto e si metteva a applaudire cioè ci insegnano le grandi città dico da New York in poi no no ma io ripeto va ringraziata l'amministrazione che ha creduto nel nostro sport e gli ha dato ha trovato anche il veicolo forse dello sport proprio del podismo della corsa il veicolo giusto per diffondere un po' questa anche questa cultura sì sì no ma insomma ci sono altri sport tipo il ciclismo ma anche il calcio in cui insomma dispiegamente di forze per giocare una partita di calcio è enorme no anche lì nella zona intorno allo stadio viene chiuso tutto quindi ecco queste immagini fatte con la GoPro di Demetrio che ringrazio perché è un alunno che si è dedicato a questa cosa dietro mia richiesta e sta lavorando molto bene quindi queste immagini che vengono portate avanti anche con questi mezzi diciamo così ci fanno capire le caratteristiche del percorso ci fanno vedere anche un pochino quello che succede insomma ecco nel proseguo della gara che a volte molti non potrebbero perché è difficilissima poter evidenziare questa parco corsa perché è molto frastagliata diciamo nel suo tracciato che è varissimo insomma dal pionta si va a finire addirittura a Villa Severi poi si ritorna al parco giotto quindi voglio dire sono zone che non è che siano così facilmente raggiungibili trattata con una macchina anche perché poi c'era dei punti anche su dopo il prato che l'accesso non c'è ci potevi passare correndo ma non con altri mezzi e quindi intanto vediamo Tartaglini che è andato molto forte qui insieme all'atleta dell'emici questo atleta diciamo italo morocchino dell'Olympic Runner Lama qui due battistrada che sono invece Verni e Cannucci Atleti Cannucci l'abbiamo visto al Vivi Città secondo Getro Taos Zaccaria si è rifatto un pochino di questo Verni Atleta molto forte quando si presenta alle nostre parti vuol dire che è in forma altrimenti non si sarebbe presentato e qui siamo nella salita che porta al prato anche qui un altro tratto molto libero vediamo da un punto di vista proprio anche della della viabilità si si era stato chiuso tutto quindi piacevole anche un'altra definizione che c'è stata è Graziano Emanuele che anche lui si è fermato e poteva essere uno dei protagonisti di questa competizione quindi strada facendoli stiamo vedendo degli atleti che non abbiamo visto nelle classifiche insomma ecco che era una gara che bisognava essere preparati per farla e qui siamo nella salita che porta al prato ovviamente una salita particolarmente impegnativa perché poi a parte la prima parte che diciamo ancora è pedalabile poi ci sarà proprio via Madonna Laura che comincia ad essere molto molto dura sì ecco siamo già nella fase molto molto dura è già un chilometro di salita quindi credo che sia un bel dislivello quindi un bel impegno comunque se uno si gira a sinistra avete anche il panorama del diciamo dall'alto della città quindi molto bello qui intanto vediamo proprio il prato molto diciamo molta ombra e molto sole che sicuramente da beh io io penso che in questi percorsi così diverti proprio correrci sì ripeto è il nome la corsa nei parchi quindi oltre che essere un elemento da un punto di vista anche sportivo agonistico un percorso veramente impegnativo e interessante ma credo anche di nuovo un esempio a tutti come si può correre dentro la città senza toccare quasi al limite nessuna strada ma in questo caso ovviamente abbiamo dovuto noi per trasferirsi da un parco all'altro abbiamo dovuto utilizzare anche i tratti di strada ma altrimenti ci sono i metri sufficienti per poter correre in ogni parco quindi voglio dire senza difficoltà e questa ecco qui era la fase della discesa una fase di recupero che chiaramente è provvidenziale dopo quella salita lì decisamente e qui si vede che insomma cammina questa gente no 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 ma poi sicuramente questa qui è favorevole per portarsi poi all'altro parco quello di Villa Severi che intanto vediamo Cannucci che stacca proprio dopo la salita è stata diciamo quella determinante la fase della corsa stacca diciamo il Verni Lorenzo quei metri che poi gli saranno sufficienti per poter giungere al traguardo con quel vantaggio diciamo di pochi secondi ma determinante qui intanto vediamo nella discesa vedete che è ancora un altro spettacolo in questo tratto che dalla discesa diciamo del prato va addirittura a lambire diciamo la zona bassa del vecchio ospedale dove c'è il tribunale l'attuale tribunale queste ombre che entrano tra i concorrenti e diciamo il percorso è uno spettacolo anche le condizioni climatiche erano giuste perché non c'era l'umidità non c'era la temperatura giusta c'era quel venticello fresco che sì la mattina era un pochino fresco ma poi alle 10 la partenza è stata proprio ideale direi che il momento migliore per poter diciamo anche a volte durare un po' di fatica nemmeno si sudava più di tanto e qui ecco stiamo entrando nel parco di Villa Severi dove ahimè qualche atleta non ha fatto la sua funzione regolare perché le frecce c'erano per terra poi qualcuno ecco vediamo quelli che lo fanno regolarmente sono i primi l'hanno fatto regolarmente qualcuno un po' alle retrovie ha preferito scorciare un po' il tratto però vabbè dico non è che abbiano guadagnato chissà che cosa insomma ecco questa è la bellezza anche di questo parco proprio questo viale alberato che dà la sensazione di che cosa veramente Arezzo ha perché ha dei parchi stupendi e molti ce l'hanno fatto presente atleti che vengono dal Lazio sono venuti dall'Umbria sono venuti diciamo anche dal Fiorentino ma sono venuti anche dalla Romagna hanno apprezzato moltissimo questi parchi perché hanno visto delle cose bellissime no no Arezzo anche per il nostro sport ha veramente delle grosse opportunità insomma ora abbiamo uno stadio d'atletica nuovo funzionante a proposito ci saranno il proprio il 6 e il 7 di maggio i campionati di società di atletica leggera sarà un altro grande evento per la città di Arezzo perché porterà circa 7-800 atleti al campo di atletica nel giorno di sabato pomeriggio e domenica pomeriggio certo e molti atleti che corrono su strada corrono anche su pista e anzi sempre di più perché sono due attività assolutamente complementari e oltretutto chi veramente corre lo fa con un certo impegno gli allenamenti parte degli allenamenti comunque li deve fare in pista perché certi tipi di preparazioni direi che anche il campo di atletica viene sfruttato e utilizzato tutti i giorni da decine e decine di atleti insomma voglio dire proprio perché la performance maggiore la trovi quando poi col cronometro misuri e fai il chilometro in 3, in 4 o in 2.30 certo e questo sarà un po' anche quello che noi cercheremo di far capire nell'allenamento che andremo settimanalmente a fare al Pionta che è oltretutto gratuito per chiunque cercheremo un attimino di far capire come ci si avvia la corsa e che la corsa pur essendo un movimento naturale ma è un movimento tecnico quindi una certa tecnica anche a chi lo fa non per essere competitivo ma a chi lo fa anche a livello amatoriale ma avere un po' di tecnica, avere un po' di conoscenza anche della postura, dell'aiuto poi a non si far male e soprattutto a prepararsi per affrontare qualunque impegno nel migliore dei modi e senza distruggersi tanto per essere chiaro tanto qui siamo al Parco Pertini l'ultimo parco interessato che è molto bello anche questo chiaramente l'anno scorso è la sede di partenza e arrivo con caratteristiche forse diverse dal Pionta il Pionta è molto più naturale questo è un pochino più costruito come parco e forse anche più aperto per quanto riguarda il discorso dei giovani ci sono molti più giochi ma anche questo lo dobbiamo realizzare nel Parco del Pionta che stiamo arrivando adesso e direi che questo è un parco un'entrata bellissima e gli spazi sono tantissimi che bisogna cercare forse di concretizzarli anche con qualche gioco in più per i giovani ma certo allora è talmente grande il Pionta è vario che ripeto non solo ci si può correre ma ci possono andare veramente i bambini a giocare ci possono andare a passeggiare quindi ecco intanto andiamo ad assistere all'arrivo e poi l'intervista immediata di Matteo Cannucci del gruppo Sportivo Fiorino davanti a Lorenzo Vergni 37, 47, 38, 06 poi 38, 57 per Alessandro Tartaglini eccolo qui vediamo Alessandro Tartaglini quindi questi sono stati tre protagonisti fin dall'inizio poi al quarto posto è Lemici Omar eccolo qui a terra dell'Olimpica Runner Lama con 39,40 poi Ragazzini Giacomo al quinto posto con della Polisportiva Prociano 39,50 e poi Braganti Mauro Bettarelli Stefano Nottolini Claudio Basile Salvatore e poi il decimo il decimo proprio Basile Salvatore andiamo ancora per l'Olimpica Runner Lama il percorso non sembrava mai impegnativo e tanta fatica come l'hai trovato il percorso rispetto ad altri mi è piaciuto questo arrivo in salita con tutta la gente che accoglie molto incoraggia molto si è stato toccato mantenuto sempre il percorso degli altri anni toccando parchi bellissimi sempre calorosi la gente complimenti all'organizzazione veramente è andata benissimo sta andando alla grande tantissimi partecipanti quasi 500 iscritti molti aretini molti curiosi che sono venuti al parco a vedere quello che accadeva perché la musica la musica probabilmente si sente forse anche dal vicino ospedale e da tutta la zona di San Donato quindi veramente sono soddisfatto è stato raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissi è l'inizio di un percorso come avevo detto e speriamo che continui con questo passo qui se riportiamo gli aretini all'interno di questo meraviglioso spazio verde probabilmente riusciremo a allontanare anche le cattive frequentazioni è un grande spettacolo abbiamo visto tanta gente tanto spettacolo tanto folklore e questo dà la possibilità anche di poter ripetere questa iniziativa forse migliorando alcune cose perché probabilmente anche per noi è stata un po' la prima esperienza anche da un punto di vista logistico di creare qui all'interno del parco questa manifestazione quindi qualche forse qualche aggiustamento ci potrà essere ma comunque sia penso che come prima gara fatta qui su questo parco sia positiva ecco qui intanto vediamo su seguisti nella zona di traguardo vediamo anche la prima concorrente la Roberta Belardinelli grande risultato il suo perché ha battuto un atleta di spicco come la italo-rumena Nanu Ana che la vediamo adesso al secondo posto grande battagliera una mezzofondista è stata nazionale rumena anche di anni prestati ora vive in Italia in Romagna ha sposato Righini diciamo un atleta diciamo del romagnolo e poi al terzo posto la dobbiamo vedere ecco vediamo giù in fondo anche l'arrivo della Francesca Barneschi quindi direi anche il podio femminile un podio ad alto livello insomma certo sono veramente le nostre atleti più forti che hanno fatto un bel risultato e qui vediamo proprio ecco sui servizi vediamo anche Satigliano che era un po' sottotono che è successo? era stato al mare tre giorni qui intanto ecco vediamo proprio l'arrivo anche dei camminatori con anche diciamo i cani quindi che hanno preso parte della competizione hanno dato vivacità anche alla gara stessa direi sì certo anche l'associazione Pet Fitness a piede libero che hanno condiviso questo evento hanno partecipato poi vediamo tanta gente ma il pubblico c'era un spettacolo veramente un grandissimo forse non c'era mai stata tanta gente dietro il Pionta esatto qui intanto vediamo Isabella Sacchetti che ha vinto una delle gare più piccole ecco dei ragazzini piccoli che hanno partecipato davanti a Adele Tarquini poi qui vediamo dei maschietti che giungono al traguardo ma anche qui neanche in tenere età sono stati partecipi Zangrilli ha vinto poi Rapini Caise questi sono i primi tre bambini ma poi un pochino tutti ecco io direi anche lo spettacolo anche se non erano tanti tanti ma erano agguiritissimi questa ragazzina che viene dal Val D'Arno è stata molto forte è stata Beccattini poi in campo maschile invece ha vinto Volpi Gregorio ecco qui tanto questa atleta dell'atletica futura via via si susseguono poi i vari concorrenti poi abbiamo visto ancora altri vincitori di questa gara Satoi per quanto riguarda il settore ecco qui diciamo Volpi Gregorio che vince questa categoria poi Satoi per quanto riguarda il settore femminile della polisportiva Chianciano ancora Monini Monini poi ancora per quanto riguarda ecco Cicerone un'altra delle atlete che ha vinto la gara quella un pochino dei più lunghi qui Zanti Samuele che vince questa gara in cui gli abbiamo fatto fare un tratto del percorso molto interessante molto spettacolare insomma ecco qui vediamo gli arrivi dei vari partecipanti quindi serratissimi tutte queste promesse del nostro sport insomma è stata una giornata diciamo di spettacolo di colori soprattutto anche di sport insomma ecco qui vediamo intanto i tre protagonisti maschili e femminili al podio veramente un grande spettacolo un grande successo sono gli atleti hanno assaporato anche una premiazione a tutti l'uovo di Pasqua delle veste che ce l'ha offerta quindi ringraziamo insieme a tutti chiaramente lo sponsor anche di Estra che è stata protagonista di questa competizione e ovviamente dietro legge anche dell'amministrazione comunale che con la presenza del vice sindaco tutta la mattinata e del sindaco in alcuni tratti della giornata sono stati fondamentali ecco che intanto anche il settore giovanile è presente che tutti sono stati premiati con coppe medaglie e uova per tutti quindi anche le premiazioni sono state di un certo livello perché a tutti veniva dato anche uno zaino e qui il panorama finale di questa parco corsa l'appuntamento al 2018 sperando di poterlo ancora migliorare e quindi sensibilizzare anche l'opera pubblica che lo possa e vi aspettiamo tutti il 2 di maggio per l'allenamento di gruppo alle 19 venite che ci divertiremo bene buonasera a tutti da Fabio Sinatti buonasera da Davide Faltoni